Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa della vigilia di Natale. Oggi è il 24 dicembre, siamo a giovedì, siamo nella zona rossa e allora costretti nelle nostre abitazioni e siamo qui per tenerci compagnia con l'informazione che arriva puntuale alle 7 del mattino in diretta. E cominciamo come di consueto sfogliando il calendario di oggi, vediamo qual è il santo del giorno. Oggi è San Delfino di Bordeaux, il sole sorgerà alle 7.44 e tramonterà alle 16.36. Adesso il tempo perché ci sono delle novità. Quali sono queste novità? Intanto andiamo a vedere il sommario, il titolo della pagina di trebimeteo.it che continua a parlare di burrasca tra Natale e Santo Stefano che in parte coinvolgerà anche la nostra regione. Neve a quote basse, in arrivo anche il freddo, anche se questa mattina erano 15 gradi alle 5 del mattino, perlomeno qua nella provincia di Peseo Rubino. Abbiamo poi altro maltempo tra il 27 e il 29 e neve in pianura al nord-est. Mentre sul bollettino della protezione civile delle Marche per oggi abbiamo intanto possibili precipitazioni deboli, con piovaschi, brevi rovesci sparsi nelle zone di montagna, che però in serata potranno estendersi anche alle zone di collina e costiere. Il limite delle nevicate sarà intorno ai 1800-1900 metri. Vedete ancora le temperature sono alte, soprattutto quelle della notte, infatti il limite delle nevicate sarà intorno ai 1800-2000 metri. Insomma, quindi niente di che, soprattutto per quanto riguarda i nostri monti. Poi attenzione perché ci sono oggi anche raffiche di vento forte nelle zone basso-collinarie e costiere, poi burrasca, venti di burrasca nelle zone collinari e tempesta addirittura, quindi fortissimo, nelle zone montane. Andiamo a vedere la giornata di domani, che è il giorno di Natale. Come sarà il giorno di Natale? Innanzitutto, da come si vede dalla grafica, domani avremo un cielo molto nuvoloso su tutta la costa triatica e le precipitazioni saranno probabili nel pomeriggio nell'entroterra, quindi in montagna, con il limite delle nevicate che da 1900-1900 scende a 1100 e addirittura in serata scende ancora, per effetto della diminuzione delle temperature, a 800 metri. Siamo nella serata di Natale, quindi vedete il peggioramento continua, quindi dalla sera del 25 e l'apoteosi arriverà sabato 26, con il giorno di Santo Stefano, nel quale chi ci segue dalla montagna, ma anche dalla collina, perché avremo in qualche modo nevicate intorno ai 400 metri, e localmente nel settore meridionale anche fino a 200 metri di alto, quindi praticamente quasi in pianura, con carattere di acqua misto neve. Ovviamente i fenomeni si esauriranno, viste le previsioni, nel pomeriggio al nord, quindi nel Pesarese, e in serata a sud della nostra regione. Questa è un po' la situazione, il programma del meteo fino a sabato, poi gli altri giorni li vedremo prossimamente. Allora, intanto cosa c'è da dire? C'è da dire che anche le marche hanno il loro paziente 1 che ha il Covid con la variante inglese, c'è un'intervista che il Corriere Adriatico ha fatto a questa persona, che dice sto bene, non abbiamo problemi, e questa è la prima notizia. Poi dopo andremo a vedere tutto il resto e vediamo un po' che cosa possiamo fare, che cosa non possiamo fare in questi giorni di lockdown, di, qualcuno dice, arresti domiciliari. Allora, andiamo a vedere i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico, questa è l'edizione di Pesaro. Il titolo, il paziente 1, tranquilli, sto bene, variante inglese del Covid, l'operario di Loreto al Corriere dice nessun problema, solo sintomi leggeri, ha un forte raffreddore, ma niente di più. Poi c'è da aggiungere invece tra i positivi, very important people, VIP, Magnini, il nuotatore. Filippo Magnini che ha detto sui social, ho il Covid, sono positivo. E sono preoccupato, dice, per la mia famiglia. Intanto scattano oggi i controlli, da oggi in poi i controlli, occhio ai cenoni e alle feste in casa. Intervista al Sindaco Ricci, dal Corriere, le mie quattro sfide per l'anno nuovo. E poi parla la ricercatrice che dice, ecco come sono riuscita a isolare la variante. Si chiama Roberta Longo, vedremo tra poco, ed è stata lei ad individuare la variante inglese nel tampone dell'operaio di Loreto. Addio a Coralloni, siamo a Pesaro, barbiere di qualità per più generazioni. Travolto e ucciso, luce New Jersey nel tratto di statale sulle Seligate. Poi il calcio con l'Avis e il Fano che perdono e vanno K.O. Adesso la classifica fa paura. E qui sotto, sempre dal Corriere di oggi, vigilia, assalto alla pescheria. I vigili devono intervenire, la pescheria è quella di Fano in piazza Andrea Costa. Troppi in fila, va meglio per il mercato settimanale. Ressa, ma rigorosamente all'insegna, delle mascherine. Il Carlino di Pesaro, io e Valentino, che storia? Luca Marini ha tutto campo in vista del debutto sulla MotoGP. E poi Simona Ferri, la figlia dell'imprenditore Ermanno Ferri, che chiede ora la verità sulla morte del padre. Era negativo quando si è ricoverato. Dove ha preso il virus? Si domanda la figlia Simona. E poi a Lunano, la tragedia di un uomo che è morto sul colpo a 63 anni, dopo uno schianto con la sua automobile, era andato a festeggiare la pensione. Dicevamo a Pesaro è morto un altro pezzo di storia della città, ovvero il coiffure, il parrucchiere Coralloni. Aveva 85 anni, l'artista dei capelli. E poi scuola, le marche non sono pronte in classe solo a metà. Quindi dal 75% che doveva essere intorno al 7 di gennaio, si scende al 50%. E poi la messa della notte della vigilia di Natale, messa ai coprifuoco nelle parrocchie, questo è il titolo mi piace, la più notturna inizierà alle 21. La più notturna rende subito l'idea. Fantastico. L'ultimo assalto per i regali da oggi, occhio ai controlli, perché da oggi siamo appunto in zona rossa. Qui di taglio basso dello sport, come sempre in prima sul Carlino, VKO a fermo, l'alma affonda, giallo Covid, bianco-rosso in serata no allo stadio Orecchioni. I Granata protestano e spuntano contagi. Poi il caso Beffa, Magnini positivo al virus, dopo il rientro, l'annuncio del nuotatore su Facebook, le preoccupazioni, scusate, le precauzioni, dice lui, non sono bastate. Ma è un po', lo dicono tutti, non so, questi personaggi che hanno un po' paura, anche delle critiche. Ah, io ho fatto tutto, sono stato un santo, sono stato bravissimo, mi lavavo le mani 50 volte al giorno, eppure l'ho preso, quasi a giustificarsi. Non si sa perché, questa cosa che dicono tutti quando prendono il Covid. Allora, andiamo a vedere adesso invece la pagina 2 del Corriere Adriatico, che abbiamo selezionato per la rassegna di oggi, di questa mattina, perché in questo articolo si parla appunto della variante inglese nelle Marche. Fino a novembre nessuna traccia. Le ricerche nel laboratorio di virologia hanno evidenziato la mutazione genetica del virus. Il tampone è quello di un papà di Loreto che si è sottoposto al test con moglie e con la figlia ventenne. Allora, lo chiamiamo paziente 1, paziente in tutti i sensi, anche nei confronti dei giornalisti, che sono andati a casa a bussare, a chiedere informazioni, questi li ha mandati a quel paese, giustamente, dico giustamente, ma comprendo benissimo poi il lavoro che fanno anche i colleghi, che non è sempre facile anche in certe situazioni. Chiaramente, insomma, i colleghi non sono andati lì per fare gli affari di quell'uomo, ma semplicemente per cercare di capire e informare giustamente la popolazione. Allora, il tampone, diciamo che in questione, è quello di un papà di mezza età che venerdì si è sottoposto al test insieme alla moglie e alla figlia ventenne a causa di un raffreddore insistente. Si tratta del secondo caso registrato in Italia, dopo quello di una 42enne romana che vive a Londra. Però la particolarità, scrive Maria Teresa Bianciardi sul Corriere di questa mattina, è che questo paziente 1 marchigiano di Loreto e la sua famiglia non sono stati recentemente in Gran Bretagna e non hanno avuto, dicono, anche nessun tipo di contatto con persone che sono rientrate, per esempio, da Londra. E quindi, aprendo di fatto un capitolo nella storia delle mutazioni genetiche che sicuramente verrà arricchito di particolari quando il virus sarà isolato e si potrà capire, per esempio, con che velocità riesca ad infettare. Ad oggi sappiamo che questa variante accelera moltissimo il contagio, quindi si parlava del 70% in più rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Ora, sappiamo che è iniziato tra i giovani ed è partito dalle scuole. Questa è un'altra novità. Scuole che dicono essere grande volano di diffusione del virus, ma ancora non abbiamo la prova che sia altamente trasmittibile. Per quanto riguarda l'isolamento, il sindaco di Loreto, Moreno Pieroni, dice che si tratta di un nucleo familiare residente nella città mariana, ma la situazione qui è tranquilla dal punto di vista sanitario. Su 13 mila abitanti di Loreto abbiamo 50 casi positivi. Rispettiamo le regole anti-Covid, non ci sono i pellegrini e quindi non c'è neanche il rischio di assembramenti. Ora, l'intervista, che dicevamo scherzandoci un pochettino sopra, allora l'intervista, il colloquio più che l'intervista, ecco, questo è corretto, non è proprio una vera e propria intervista, ma è un colloquio, un colloquio che c'è stato tra il giornalista e la famiglia. Il paziente 1 dice tranquilli, sto bene, problemi zero, ora lasciateci soli. Loreto positivi anche moglie e figlia, ma solo l'uomo ha il virus mutato, quindi solo il capofamiglia. Ora, il Corriere, intorno alle 19 di ieri, scrive ha suonato alla porta della famigliola e come risponde? Con una frase secca. Non vogliamo parlare, andate via, risponde la moglie per conto del marito dietro il portoncino blindato. Parole ferme, non si tratta sul punto e dunque cerchiamo di spiegare, spiegare, i giornalisti dicono niente notizie sensibili o sensazionalismi, solo capire in maniera anonima se si era riusciti a capire l'origine di questo contagio, risultato poi così singolare alla luce dei test, dei virologi e come sono trascorsi questi ultimi giorni. Quindi è legittima anche questa domanda, che è la domanda che si sono posti poi, e quindi diventa di interesse pubblico, anche sapere come se effettivamente sono stati a Londra, come l'hanno preso, come l'hanno preso, che può servire anche a noi. Se loro ci danno informazioni in questo senso, poi noi possiamo prendere atto e quindi comportarci di conseguenza. C'è tutto l'interesse giornalistico, adesso sto dalla parte nostra. Non ci interessa riferire notizie sulla nostra situazione, risponde la donna, stiamo bene, non abbiamo problemi, vogliamo vivere questa cosa senza essere disturbati, dice la signora che continua a tenere la porta chiusa. Poi Arianna Carini e Andrea Taffi raccontano ancora meglio nel dettaglio questa situazione che si vive appunto a Loreto. E il Carlino titola invece la variante inglese tra noi, un focolaio nelle Marche colpito da una famiglia di Loreto, ma c'è, attenzione, qui un escalation nel raccontare questa notizia sulla pagina in primo piano del Carlino nazionale. L'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora il virus si trasmette anche ai bambini. Uno degli aspetti più preoccupanti, che preoccupa, è stato appunto che questo nuovo ceppo sembra essere più facilmente trasmettibile da giovani e dai bambini, ma proprio dalla Gran Bretagna arriva l'allarme per un'altra variante, eccola qua, originaria del Sudafrica questa volta, che potrebbe essere ancora più contagiosa. Quindi siamo addirittura al Sudafrica. Si tratta di uno sviluppo molto preoccupante, ha dichiarato ieri il Ministro della Sanità, Matt Hancock, e dunque dice ci troveremo di fronte ad una maggiore capacità di trasmissione, mentre la versione inglese della SARS-CoV-2 sarebbe comunque già diffusa nella quasi totalità del territorio europeo, secondo gli infettivologi. E poi, per aumentare ancora, perché giustamente chi legge l'articolo deve entrare in un pathos senza limiti, intanto ieri è stata superata la soglia delle 70 mila vittime da Covid da inizio pandemia in Italia. E il contagio sembra frenare, però più lentamente. Quindi non rilassatevi, voi che state leggendo, continuate a tenere duro il giornale. per capire davvero l'andamento della curva, secondo gli esperti, bisogna guardare non al Paese nel suo complesso, bensì alle singole regioni. E poi, insomma, si parla ancora di rischi, eccetera, eccetera. Insomma, manca solo l'asteroide che punta sulla Terra e poi, insomma, lì si arriva al top. Va bene, invece, io, laureata con tesi sull'AIDS, ho scoperto la variante inglese e questa invece è una bella notizia, nel senso che ci fa piacere leggere di persone che, anche giovani, come questa dottoressa che si chiama Roberta Longo, che con la sua tesi sull'AIDS, con la quale si è laureata, poi dopo, vabbè, con la sua passione, immaginiamo, e la sua tenacia, ha scoperto la variante inglese. È una dottoranda di ricerca al laboratorio di virologia. Martedì dice, ho sequenziato il genoma, ora capiremo la velocità del contagio. Intanto, isolando il virus, vedremo se infetta con più rapidità. Intanto, sempre dal Carlino, la prima a vaccinarsi è un atto, dice, è un atto d'amore. Claudia Alvernini, così si chiama, è un'infermiera dello Spallanzani di Roma e domenica riceverà il siero. Rappresento tutti quelli in prima linea contro il virus. Il commissario Arcuri rassicura, dice, il composto ci sarà per tutti quanti. Non agitatevi. Comunque, protetto almeno sei mesi. Questa è un'altra intervista, invece, interessante, che vorrei, in qualche modo, leggere, anche se abbiamo pochissimo tempo. Protetti almeno sei mesi, torneremo poi alla normalità. Il Presidente dell'Agenzia del Farmaco dice, sarà efficace anche contro il ceppo inglese, ma fino al raggiungimento dell'immunità di gregge meglio tenere la mascherina. Ora, la domanda di Alessandro Malpelo, del Carlino, è, e qui vorrei un attimo leggerla con voi, dobbiamo mettere in conto qualche allergia o altri effetti indesiderati? L'AIFA risponde, sarà presente attivamente nella fase di sorveglianza per valutare le reazioni avverse da un punto di vista di osservazione indipendente. Ora, ad una prima lettura, uno si sente rassicurato, dice, vabbè, l'AIFA sarà presente attivamente nella fase di sorveglianza per valutare le reazioni avverse. Poi lo rileggi un paio di volte e dice, qui manca qualche cosa. E in effetti manca un aggettivo che andrebbe messo, per essere un po' più tranquilli, subito dopo, subito prima, anzi, della parola reazioni. E qui manca, è qua, manca la parola possibili reazioni avverse. Quindi, rileggendola e mettendoci la parola, l'AIFA sarà presente attivamente nella fase di sorveglianza, e fin qui va bene, per valutare le possibili reazioni avverse. Ma siccome l'aggettivo possibile non c'è, allora qui sta di fatto che si dà per scontato che ci saranno reazioni avverse. Ora, lungi da me, perché eticamente, moralmente, non è una cosa che posso fare e non lo voglio fare. Dire, suggerire, fare, non fare il vaccino non lo dico, non lo dirò neanche sotto tortura, né se lo faccio, né se lo consiglio, né non lo consiglio, però cerco di in qualche modo leggere, fare un'analisi critica, ermeneutica, per vedere un po' che cosa ci dicono e quindi insieme a voi iniziare un, come dire, un discorso e quindi un ragionamento che poi ognuno valuterà e attraverso il quale poi prenderà le decisioni del caso. Quindi io mi limito semplicemente a leggere e a dare informazioni attraverso quello che scrivono i giornali. Quindi questa è un'intervista che troverete sul resto del Carlino, ve la consiglio anche di leggere perché è interessante. Poi c'è un'altra intervista invece in casa nostra in provincia realizzata con il sindaco di Pesero Matteo Ricci il quale sapete per le cose che ha detto recentemente insomma è per il vaccino addirittura si è lasciato sfuggire un vaccino obbligatorio per tutti che è una cosa che fa venire la pelle d'oca ma comunque indipendentemente da questo poi adesso non parla in realtà più di vaccino obbligatorio meno male ma comunque auspica che siano tutti a vaccinarsi. la prima delle quattro partite del 2021 questo è l'auspicio del sindaco di Pesero nell'intervista che troverete sul giornale di questa mattina intanto sono terminati i test rapidi questo test di massa ci si aspettava qualche cosa di più qualche pesarese e urbinate di buona volontà in più però tutto sommato non è andata male però guardate il titolo covid oltre mille pesaresi ignari girano con il virus senza sintomi ora questo fa veramente paura oltre mille pesaresi ignari cioè senza saperlo ignari vuol dire senza saperlo cioè portano addosso il virus senza saperlo girano indisturbati perché giustamente stanno bene non hanno sintomi ma hanno il virus e quindi infettano esposto che Isabetta Esposto responsabile del distretto sanitario a conclusione dello screening parla fa un punto della situazione e racconta un po' come sono andate le cose nella nostra provincia mentre a San Lorenzo in campo purtroppo ci sono 36 positivi nella residenza protetta vedete nonostante il nome in qualche modo in linea di massima avrebbe dovuto mettere un po' perché sono residenze protette e quindi nomen omen avrebbe dovuto dare qualche garanzia in più in realtà di protetto qua c'è poco in queste case di riposo questo a dire che il virus entra senza problemi ovunque nuovo focolaio nella struttura che ospita non solo anziani ma anche persone giovani con disagio psichico quasi tutti sono praticamente asintomatici scatta la zona rossa occhio ai controlli sempre dal resto del carlino aperti i negozi di prima necessità oggi presidi nelle strade delle forze dell'ordine il comandante dei vigi urbani fa il punto Muzzini che è il tenente della polizia locale di Pesaro che annuncia controlli nelle strade e che dice confidiamo nel senso di responsabilità di tutti ora per quanto riguarda gli spostamenti sapete tutti sappiamo tutti che non ci si può spostare non si può uscire di casa se non per quei tre motivi urbani conosciamo a memoria però nel caso in cui usciate di casa ricordatevi che da oggi serve l'autocertificazione perché quando si viene fermati se non avete quella già siete con un piede nella fossa ultimo giorno di regali in città ma a prezzo pieno non si vende più i commercianti pesaresi tutto sommato soddisfatti malgrado le difficoltà del momento in tanti ci hanno chiesto se saremmo stati aperti anche il giorno della vigilia purtroppo abbiamo dovuto rispondere di no intanto sullo screening anche il carlino impennata dei test ma solo sul finale in giro un migliaio di inconsapevoli infetti sono stati 4.083 cittadini di Pesaro e Urbino che hanno aderito per un totale di 17.130 persone e 133 positivi parello 0,8% l'adesione è stata inferiore però alle attese ma la nostra provincia ha registrato comunque nelle Marche la migliore performance intanto per quanto riguarda le messe la più notturna è alle 21 e il giorno di Natale si moltiplicano come si organizzano le parrocchie stasera è la Chiesa del Porto quella che inizierà a celebrare più tardi infatti è alle 21 al Duomo oggi ne è stata aggiunta una una alle 20.30 a Loreto domani ci saranno invece 6 funzioni Don Michele sarò breve non voglio mettere in difficoltà i miei parrocchiani intanto il Carlino a beneficio di tutti coloro che appunto volessero andare a messa pubblica tutte le parrocchie con gli orari delle funzioni l'ultima idea nelle Marche è quella di fare lezioni a giorni alterni proposta del leader regionale dei presidi l'assessore Giorgio Latini dice noi non siamo pronti però per ripartire con il 75% di studenti in aula e dunque probabilmente verrà abbassata al 50% intanto la questione degli autobus in molti casi mancano i mezzi di trasporto e non vogliamo creare troppi disagi alle famiglie con appunto i doppi i doppi turni mentre sulla pagina 3 del resto del Carlino che Natale sarà come bisognerà comportarsi un Natale particolare c'è anche la guida al Cenone le regole per gli ospiti e per la tavola niente vassoi da portata o brindisi condivisi ma anche ciabatte usegetta asciugamani strettamente personali in bagno come districarsi tra le mura domestiche con gli inviti di genitori zii nonni o cugini per non incappare in sanzioni o delazioni chiaramente qui si fa riferimento a tutta una serie di regole che sarebbe opportuno mettere in pratica anche nell'interno delle nostre case perché è lì che poi nell'ambito domestico che si diffonde moltissimo il virus lo dicono i dati lo dicono proprio i numeri per esempio all'ingresso togliersi le scarpe e indossare ciabatte usa e getta scambio dei regali rapido magari con un tavolo comune per i pacchi possibile ma sconsigliato ospitare familiari la reazione importante importantissimo cambiare l'aria almeno ogni mezz'ora aprite le finestre anche se fuori a meno 10 gradi ma apritele perché è fondamentale i bambini evitare di farli avvicinare ai grandi quindi tenere i bambini lontani comunque non niente a bracci perché anche loro i bambini veicolano questo virus poi in cucina che cosa si può fare in cucina attenzione cuocere tutti i cibi attenzione però all'impiattamento non assaggiare assolutamente cucinando poi la distanza almeno un metro e mezzo soprattutto se non si è conviventi le bottiglie non versare acqua e vino agli altri commensali ognuno pensi per sé i bicchieri brindisi vietati niente cin cin niente per carità e poi i piatti non assaggiare dal piatto del vicino poi per quanto riguarda in bagno invece abbiamo detto gli asciugamani separati per gli ospiti a tavola solo i familiari i genitori figli resta il nodo dei nonni che purtroppo vivono soli ecco questo è davvero il nodo il problema ma se uno si fosse organizzato un pelarino prima e avesse avuto un po' la voglia di fare le cose fatte con la testa avrebbe fatto il test e poi con calma avrebbe invitato senza problemi anche nonni e quant'altro magari portando pure il nonno a fare il test occhio a chi sgarra sanzioni severe questo è importante l'autocertificazione serve perché viene controllata lo dice il ministro dell'interno che chiede la collaborazione dei cittadini i divieti e le limitazioni agli spostamenti potrebbero durare addirittura qualche mese la massima attenzione nelle abitazioni private siamo pronti a proteggere le forniture di vaccini in arrivo nelle prossime ore siamo in ritardo allora vi ricordo soltanto che la zona rossa sarà oggi poi domani natale il 26 e il 27 poi il 28 29 e 30 si torna arancioni l'ultimo dell'anno il primo il 2 il 3 gennaio saremo di nuovo rossi 4 un solo giorno arancioni 5 e 6 rossi di nuovo poi il 7 tutti di nuovo gialli allora la notizia di Confindustria invece nel caos pare che Papalini Mauro Papalini appena eletto a 24 ore dopo abbia già presentato la lettera di dimissioni pare non c'è nulla da ufficiale tutti hanno i telefoni quasi tutti spenti ma comunque questa è la notizia che troverete sul Carlino di oggi un colpo di scena praticamente dietro l'altro nello scontro Confindustriale Pesor Ancona a distanza di 24 ore pare che appunto Papalini abbia durato 24 ore nel suo regno ma anche una scelta che diversi imprenditori della provincia avevano caldeggiato vista la situazione è morto Giorgio Coralloni addio all'artista dei capelli aveva 85 anni il coiffeur che ha rivoluzionato il modo di lavorare da Forlani a Schroeder quante teste celebri sotto le sue mani oggi funzione religiosa alle 14.30 nella chiesa di Cristo risorto eccola qua l'assalto alla pescheria di Fano municipale costretta ad intervenire va meglio per il mercato settimanale anziani persi mille iscritti pagano il prezzo più alto sono i dati della CISL pensionati oltre un milione di euro di multe a Fano bazzecole rispetto all'anno prima il lockdown e le restrizioni abbattono del 55% le entrate nelle casse comunali festeggia la pensione a Pian di Meleto invece e muore la tragica fine di Gilberto Riminucci un 63enne di Lunano brinda pranzo con gli amici la sera si schianta in auto contro un pulmino e un altro veicolo mentre alle poste a Terre Roveresche un mattino su 7 gli anziani infila per ore la protesta e poi a Senigallia calce pugna i sanitari in ospedale arrestato si tratta di un uomo di 22 anni il Fano Dribla perde 1 a 2 contro il Matelica in casa la Vis invece a Fermo perde 2 a 0 e Magnini che dice ho il Covid grazie per essere stati con noi da tutta la redazione di Fano TV all'augurio di un buon Natale alle 16 in diretta oggi da Loreto la Santa Messa tra poco la Santa Messa alle 7.30 alle 16 lo stesso da Loreto e poi alle 19.30 invece in diretta con il Papa dalla Basilica Vaticana noi ci vediamo domani mattina alle 9 per i consueti auguri di Natale ciao arrivederci a tutti